Dopo l'esibizione di Sfera e Basta al number one di Brescia di Steven Basalari Sono iniziati a girare su TikTok questi filmati dove l'artista sembrerebbe aver avuto un malore Infatti Sfera riesce a malapena tenere gli occhi aperti e si guarda intorno in maniera molto spaisata Tra l'altro anche nel video in cui Steven gli regala un aelo da 50.000€ Si vedono molti commenti che ironizzano sul fatto che Sfera ha avuto una reazione molto pacata E quindi le due cose potrebbero essere anche collegate Non aggiungo altro ma vi lascio i filmati in questione e noi ci vediamo in un prossimo video in linea lo studio